Ciao ragazzi, qui è Statit97 e benvenuti su Dragon Ball Xenoverse 2 Ragazzi, allora, quest'oggi dovevo uscire God of War, però ho avuto un attimo dei problemi Allora ragazzi, quest'oggi, come detto dal titolo, vedremo la famosissima battaglia che si è svolta fra Majin Vegeta e Goku Super Saiyan Blue Ovviamente, siccome quel Goku ti ha la categoria dell'aureola Un attimo Perché non è questo, ragazzi Però perché quando Goku è... è questo qua, la prima volta Un'arena, ovviamente, montagna, eh, per rivivere questa battaglia Ragazzi, quest'oggi ne ho deciso di fare questa battaglia perché ovviamente è una delle battaglie più famose in tutto Dragon Ball C'è il Super... il Principe de Saiyan che diventa... che si fa controllare sotto il controllo mentale di Babidi Oramai lo sappiamo tutti quanti, non c'è bisogno nemmeno che non vi faccio lo spoiler Ah, ovviamente, questa è un'altra versione del vestito Ovviamente, ragazzi, non è che qua Vegeta diventa per la prima volta Majin, no? Majin diventa per la prima volta nel torneo mondiale E sta di fatto che io vorrei un attimo... ecco qua, lo sto apprendendo Però dopo tutto, ragazzi, stiamo vivendo lo scontro proprio etico Però se l'intelligenza artificiale della PlayStation 4 riuscirà a far diventare Goku Super Saiyan di secondo livello Eh, ragazzi, perché qua questo cazzo di vigore in seno adesso rompe veramente le palle Non c'è niente da dire, non ho nulla Ragazzi, questo episodio qua l'ho visto per ben due volte E vi dico, ragazzi, che più vediamo... vedo Dragon Ball di nuovo Perché io, ragazzi, ovviamente Dragon Ball l'ho visto... visto e state visto per un milione di volte E vi dico, ragazzi, che personalmente Dragon Ball Z... non lo batte nessuno Adesso mi viene da dietro e mi rompe il vigore Eh, però, ragazzi, guardate, però... Deve schiattare subito, però... Cioè, ragazzi, comunque a me, personalmente, la battaglia fra Goku e Vegeta Un amico mi ha detto che gli piace troppo questa battaglia fra Goku e Vegeta Io, personalmente, mi limito a dire che Dragon Ball è tutto quanto bellissimo, comunque, eh In sé per sé, ma anche con l'arrivo di Dragon Ball Super, eh, ve lo dico Ragazzi, e... oggi vi ho fatto questo video qua Scusate se lo vedete uscire stasera, non so che ora sono Perché mi sono ritirato un po' tardi, a caso ho avuto a che fare al lavoro Ragazzi, allora, vi... vabbè, questo ve lo dirò nel pack opening che farò Ok, ragazzi, io comunque, pregando che riesco a concludere Ma non con la morte di Vegeta, perché ovviamente sarebbe proprio da... da nabbo scarso, proprio Finire con un principe dei Saiyan, vai, lampo... Finire! Vai, Big Bang attacco, Big Bang attacco! E te pareva Dai, dai, no! Dai, dai, Vegeta, vai, vai! Perfetto, ragazzi, vi piace questa scena? Ditemi qui Ok, ragazzi, il vincitore è Vegeta Guardatelo tutto insanguinato Poi con la M Però, ragazzi, si sapete che prima o poi in Saiyan Avesse metteva una macchina in Vegeta Ragazzi, questo video finisce qua Lasciatemi un mi piace, un commento Iscrivetevi al canale Qua da StatiT97 è tutto E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video